Grazie a tutti. 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 Buongiorno, se prendete posto cominciamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, buongiorno a tutti. Quindi lascio a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Tu tu. Grazie a tutti. 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 i maschi. Grazie a tutti. 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 E quindi, Grazie a tutti. 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 Armino, Grazie a tutti. 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 Grazie a 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 tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Bene. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.